La riunione tecnica operativa per definire il piano neve, di che si tratta? Si tratta dell'organizzazione, soprattutto dei gestori, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e ovviamente degli aspetti di protezione civile, quindi prefetture, province, l'agenzia stessa, di mettere a sistema tutte le competenze che sono necessarie per affrontare la stagione invernale. Parliamo di piano neve, ma ovviamente è inerente al freddo in senso generale, quindi anche la presenza di ghiaccio, ma soprattutto la funzionalità in questo periodo dei servizi essenziali affinché i cittadini abruzzesi non abbiano difficoltà o quantomeno il minor numero di disagi possibile durante questa stagione.